Cari amici come sempre ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis, andiamo a vedere cosa accadrà sul nostro territorio, sarà una giornata abbastanza tranquilla e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, quindi nulla di particolare, nulla di particolare anche dal punto di vista delle temperature, avremo temperature senza particolari eccessi con caldo comunque moderato, quindi caldo moderato, temperature massime che comunque saranno di tutto rispetto ovviamente ma non ci saranno particolari valori, però caldo moderato sì. Questa è la previsione per il nostro territorio, come potete osservare appunto dalla nostra grafica, tempo comunque piuttosto tranquillo. Io per il momento mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, come al solito vi auguro di trascorrere una buona giornata. A presto, arrivederci.